Ci troviamo oggi nel quartiere peserese Celletta Santa Veneranda e precisamente all'angolo fra via Bonini e via del Novecento. In questo luogo i capannoni faticenti che vedete alle nostre spalle lasceranno presto spazio a un nuovo supermercato. 2500 metri quadrati di struttura di media distribuzione che hanno avuto ieri il via libera in consiglio comunale senza voti contrari. Non ci sarà solo un nuovo supermercato ma anche interventi di migliorie a livello di parcheggio con riqualificazione di marciapiedi e di percorsi ciclabili. Una riqualificazione del valore di 110.000 euro che sarà proprio a carico dell'azienda privata che realizzerà il punto vendita come scomputo di oneri di urbanizzazione proprio destinati alle migliorie in tema di viabilità e di sosta in questa zona. Grandi manovre non solo alla celletta ma passi avanti anche nella realizzazione del Palace Cavolini su quello che fu il Palace Porte di Viale dei Partigiani. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 completando così l'operazione che vede ora il Comune diventare unico proprietario dell'intera struttura. Uno status che permette così di accedere ad un contributo da parte del GSE ovvero della società dello Stato che persegue le finalità di sviluppo sostenibile ed efficientamento energetico. Una richiesta che ha avuto esito positivo ottenendo il contributo per rendere il palazzetto dello sport all'avanguardia che sarà di 1.756.000 euro. Proprio in tema di lavori pubblici il sindaco Matteo Ricci ha presentato ieri anche Maurizio Severini come neodirigente alle nuove opere selezionato dalle comune di Pesaro. Una nuova figura che si affiancherà ad Eros Giraldi che seguirà invece manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il progetto del palazzetto dello sport. Temi al centro di un Consiglio Comunale che dalla prossima seduta potrebbe essere col Green Pass obbligatorio. Un provvedimento proposto dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini ora in attesa di approvazione.